I lavoratori delle ditte General Service e Ariete che gestiscono i servizi di pulizia e piccola manutenzione negli impianti sportivi e uffici comunali di Potenza, oggi accompagnati dal sindacato USB, hanno incontrato il sindaco del capologo di regione Dario De Luca per chiedere certezze sul loro futuro. Il contratto tra il Comune di Potenza e la società Ariete che ha subappaltato alla General Service una parte dei lavori sta per scadere ed il nuovo bando Consip ha individuato la società Romeo di Napoli come nuovo gestore dei servizi. In tutto 120 lavoratori che temono una riduzione dello stipendio. Davanti al Palazzo di Città, mentre era in corso l'incontro con il sindaco, un gruppo di lavoratori ha aspettato notizie organizzando un sit-in. Per il momento ci è assicurato che la base dell'appalto ha previsto la conservazione delle attuali condizioni lavorative, sia nel numero delle ore sia nel numero degli addetti. Questa è già una prima risposta positiva. Il nostro sindacato ha posto il problema di una internalizzazione del servizio all'interno dell'acta che nello statuto prevede la possibilità di svolgere questi servizi. Per noi con una notevole riduzione della spesa. Su questo il sindaco si è mostrato sensibile e ha detto che nella riorganizzazione generale, che comunque riguarderà anche il sistema ambientale, terrà conto anche di questo. Per il momento chiaramente il passaggio sembra quasi ineluttabile con la ditta Romeo che si è aggiudicato la gara Consip. Grazie. Grazie. Grazie.